Musica Ci sarò anch'io sabato mattina alla Pineta Sicura, al Pineto, ci sarò perché come Regione Lazio abbiamo scommesso sin dal primo anno della prima legislatura sulla prevenzione e il contrasto alla violenza contro le donne. Abbiamo scommesso sul sostegno ai luoghi e alle case delle donne, luoghi di identità, di autodeterminazione, di libertà che fanno bene a tutti oltre che a tutte. Roma nel prossimo anno ha bisogno di essere ripensata, rigenerata e i luoghi delle donne sono lo strumento migliore per attivare energie positive.